Il tema movida in città continua a far discutere ordinanze e divieti, ma per i residenti che sono tornati in centro la vita è sempre più difficile, o meglio, è difficile far convivere diverse anime e conciliare le esigenze di tutti. Diciamo pure che il tema è atavico. L'Aquila, città universitaria, ha sempre visto fronteggiarsi i giovani e le loro esigenze di divertimento con le richieste di chi in centro ci viveva e oggi ci è tornato. I gestori hanno chiesto collaborazione, mettendosi a disposizione per far rispettare le regole. I residenti però a volte non ce la fanno, soprattutto in alcune zone e vie centrali, quelle cosiddette della movida. È difficile far quadrare i conti, ma troppo spesso i comportamenti di chi vuole divertirsi arrivano agli eccessi, per questo le lamentele, bottiglie lasciate dovunque, atti vandalici, come quello della schiuma alla fontana luminosa e altro. Ciò che i residenti chiedono in sostanza è molto semplice, nessuno vieta agli altri di divertirsi, ma che questo non si trasformi in un incubo perché all'Aquila ci vive. Per questo invocano più controlli, soprattutto nelle ore notturne. Ma è chiaro che in una grande città-territorio come l'Aquila i residenti del centro storico sono coscienti del fatto che debba essere frito da tutti, ma quello che sta accadendo oggi lo rende davvero invivibile. Tutte le sere assistiamo ad una movida senza controllo, persone che lasciano escrementi sui vicoli, ragazzi che si rifugiano nelle case ancora puntellate del terremoto per fare consumo di stupefacenti. Noi crediamo che il diretto interessato, in questo caso naturalmente il comune debba intervenire, ma anche per dare sicurezza ad un genitore che lascia il proprio figlio giovane divertirsi in maniera sana all'interno di un centro città che è sempre stato abbastanza tranquillo, o perlomeno mai movimentato dal punto di vista negativo come adesso. A giorni in città arriverà il nuovo questore, Enrico De Simone, che sulle pagine del centro ha già detto la sua sulla movida. Regole e legalità al primo posto, ma non alle maniere forti. Si diranno comunque dei segnali e scenderò in strada, ha detto, per capire i problemi. Ma da residente diciamo che c'è da dire comunque che ci sono persone che sono tornate nelle proprie case dopo oltre dieci anni, commercianti e comunque hanno fatto degli investimenti importanti, anche mettendo in gioco il loro futuro, dopo anche qui oltre dieci anni, per cercare di rianimare il centro. Ed è proprio la disattenzione verso queste categorie di persone più scorrette, più facinorose, che rovina tutto questo e può rendere vano tutto questo. È naturale che alla base di tutto, oltre a una sensibilizzazione da parte delle famiglie a livello educativo, ma ci deve essere una norma, una regola, un controllo da parte delle istituzioni. Ricordo in tempi trascorsi che per esempio le pattuglie dei vigili urbani, anni e dietro, controllavano il centro fino a tardasera con ottimi risultati. Quindi è chiaro che il centro è di tutti, è più bello, deve essere fruito da tutti, ma con il rispetto e le regole, creando degli spazi di civiltà dove ognuno possa convivere serenamente.